Visita in attesa e informale domenica 3 giugno a Biancavilla del presidente della regione siciliana Nello Musumeci. In tour elettorale nei comuni del Catanese Musumeci si è intrattenuto in via Vittoria Emanuele con i simpatizzanti del centrodestra. A sette mesi dell'elezione per illustrare l'attuale passaggio della giunta della regione Musumeci utilizza una metafora automobilistica. Dobbiamo rimettere in moto la macchina regione. Abbiamo trovato il motore smontato, due ruote in un posto, due ruote in un altro porto, niente sportelli, niente cofano quindi stiamo lavorando per questo. Rimettiamo in moto la macchina e poi vedrete che consegneremo una regione normale. Nel frattempo abbiamo già messo in giro 730 miliardi, 740 milioni di euro dai fondi europei, dai fondi extra regionali, al sostegno delle imprese, delle attività legate alla formazione, per l'edilizia, per le infrastrutture. Io sono ottimista. Nonostante le difficoltà dell'aula ed è normale che ci siano, noi andiamo avanti con perseveranza, con tenacia, cadiamo, ci rialziamo. Ho avuto la fiducia del popolo siciliano e questa fiducia è il più grande passaporto, è il più efficace passaporto che io possa avere per i prossimi cinque anni.